chi è? buongiorno c'è un pacco da boll! li aspettavo papà che fai? sono arrivati due regali per le nostre mamme presto è la loro festa guarda vi faccio vedere due sono per la tua mamma e due sono per la mia anche la mia bambina vuole regalare il mio libro no dai